Ma vi immaginate se comprassi una LAN grande come quella di Atari e ci mettessi la mia faccia? Cioè sarebbe incredibile. No vabbè, è una figata, io clicco su edit e posso modificare il modello, cioè vabbè, incredibile. Ho inserito un ninja nel mio videogioco, gli ho dato il behavior predator, vediamo se funziona, clicco su tab, vediamo se inizia ad attaccarmi, va alla grande. Mi sta massacrando però. Pochi di voi lo sanno ma nel 2017 avevo un blog dove parlavo di cryptocurrency, bitcoin, litecoin, ethereum, tutte quelle monete virtuali che oggigiorno conosciamo. Ebbene sì, io purtroppo non ho investito tre anni fa, però conosco questo mondo già da un po' di tempo. Qualche giorno fa sono stato contattato da dei ragazzi che mi hanno detto, Samu lo sai che esiste un mondo virtuale dove tu puoi comprare la tua terra e creare il tuo videogioco e i tuoi assets e guadagnare anche da tutto questo? Ragazzi sto parlando di The Sandbox, eccolo qui. The Sandbox non è altro che un metaverse, un mondo virtuale dove possiamo creare le nostre grafiche in 3D utilizzando un tool che si chiama Vox Edit e creando i nostri videogiochi utilizzando un programma che si chiama Game Maker. Ragazzi è incredibile The Sandbox, vi state chiedendo ma come si acquistano le terre, come faccio a guadagnare, come funziona? C'è una moneta virtuale che si chiama Sand che ha un suo corrispettivo valore in Ethereum e che quindi ha un suo corrispettivo valore in Euro, Dollar e così via. E ragazzi oggi parliamo proprio di questo perché ci ho lavorato, ho provato sia il Game Maker che il Vox Edit e che devo dire wow. C'è un motivo in particolare per cui come state vedendo dall'immagine Atari e altri grandi brand hanno messo un bel po' di soldi e hanno comprato le proprie terre. Prima di parlare però nel dettaglio vi ricordo che per qualsiasi dubbio scrivete un commento qui sotto perché io sono a vostra disposizione per rispondere ai vostri dubbi. Nella sezione About trovate comunque tutte le risposte al Vox Edit, al Marketplace e al Game Maker che adesso ne parliamo e ovviamente trovate anche tutti i vostri dubbi riguardo al Sand ovvero alla Cryptocurrency che vi permetterà di acquistare assets e anche guadagnare attraverso i nostri giochi e i nostri assets. Allora partiamo dal concetto dei partner, cioè guardate qui i partner chi sono. Cioè ragazzi all'inizio uno dice ma sarà una mega truffa e così via, assolutamente no. The Sandbox negli anni ha acquisito una notorietà sempre più grande e oggi penso sia l'unico metaverse così grande con un obiettivo ben preciso. Dare la possibilità agli utenti di creare un proprio mondo virtuale con un proprio videogioco, propri assets, bellissima questa cosa. Partiamo dalla mappa, la mappa ragazzi è bellissima, è tutta questa, cioè immaginate che io un domani compro una terra e ci metto la mia faccia gigante. Ecco è quello che ha fatto Atari negli anni ed è quello che stanno facendo altre persone, altre aziende, altri team. La cosa particolare di The Sandbox è che le terre sono limitate quindi avranno poi un valore sempre maggiore. Attualmente non è possibile acquistare nuove terre ma solo terre già acquisite, infatti sono tutte sold out. Quello che però possiamo fare, ci sono degli shop appositi, comprare altre terre che altri utenti mettono in vendita. Come funziona The Sandbox? The Sandbox se ad esempio io clicco su Atari, guardate qui, The Sandbox ha comprato questo mega box 24x24 ovvero 576 terre. Cioè ragazzi se io clicco su vedi terre, guardate quante ne abbiamo, sono tantissime, posso successivamente giocare a queste terre. Quindi ogni terra potrebbe avere un suo gioco, un suo mondo, propri assets. Cioè immaginate che io creo la mia terra e metto lì dentro un mio museo, un mio museo con tutti i miei videogiochi. E se posso giocare a questi videogiochi o lì dentro insegno a creare giochi, posso fare tutto quello che voglio. E tra l'altro questo sarà sicuramente il futuro. Mi immagino un domani The Sandbox in realtà virtuale, sì, penso che ci stiano già pensando praticamente come funziona. Come possiamo vedere dalla home ci sono attualmente delle game experience in pre-registrazione. Grandi aziende, grandi team, programmatori stanno creando delle esperienze di gioco. Quindi dei giochi RPG, stanno creando dei puzzle game, stanno creando delle vere e proprie esperienze dove noi un domani possiamo metterci lì e giocare. Quello che attualmente The Sandbox vuole dire è a noi programmatori, create i propri giochi perché un domani potete appunto guadagnarci. Infatti nel link che trovate in descrizione per registrarvi, ragazzi ci state veramente 10 secondi a registrarvi, link in descrizione. Praticamente una volta che vi siete registrati potrete successivamente scaricare, ragazzi andate nella sezione create, il game maker. Il game maker l'ho provato, ve lo farò vedere tra qualche secondo. Ci permette attraverso, guardate qui, abbiamo la possibilità di modificare la camera, avatar control, enemies e fight system. Quindi per gestire i nemici e i combattimenti. Abbiamo i component, abbiamo i behaviors, abbiamo i game rules, quindi le regole di gioco. Abbiamo anche tutta la parte di UX, quindi tutta la parte di user experience. Possiamo fare tutto, creare gratuitamente i nostri videogiochi, buildare e condividere i nostri videogiochi e tutto questo senza conoscere nessun codice. Ma la cosa più bella che ognuno di voi può anche fare, programmatore all'ascolto e non, quindi anche grafici, ma anche persone che stanno iniziando ora con la pixel art a disegnare. Esiste un tool che si chiama il box edit, cioè loro cosa hanno detto? Noi non vogliamo che le persone prendano delle grafiche e le mettono all'interno di the sandbox, ma diamo la possibilità all'utente di creare delle grafiche da zero, dei modelli 3D in pixel art. Cioè ragazzi, il box edit è bellissimo, infatti ci permette di creare modelli, di animarli, perché se non possiamo animarli non ha senso, e anche di modificare il block editor. Il block che è la base poi delle nostre land, delle nostre terre, possiamo appunto creare i nostri cubettini e quindi creare mondi. Come sapete, come Minecraft anche ci ha insegnato, possiamo creare cose di qualsiasi tipo. La cosa bella anche che possiamo fare è modificare il nostro avatar, cioè non dimentichiamoci di questa cosa. Quindi possiamo creare il proprio avatar, disegnarlo come vogliamo e ragazzi, vi voglio ricordare che il futuro è quello, cioè immaginando un metaverse dove un domani possiamo vederci con i nostri amici, parlare lì dentro, fare compi insieme, cioè qualsiasi cosa. Cioè è un mondo virtuale, questo è l'obiettivo di The Sandbox. Possiamo anche creare il nostro custom equipment, quindi di cosa stiamo parlando, cioè è una figata. Vorrei avere tanto tempo per buttarmi su il game maker e il box edit per fare mille cose. Se vado sullo shop, quello che posso vedere è che ci sono in vendita tantissimi assets fatte da persone comuni, quindi anche io potrei mettere in vendita questi assets. Ad esempio questo qui ha messo in vendita, raro, questa astronauta, dove possiamo vedere ragazzi anche il modello 3D. Abbiamo anche l'idol, no vabbè ha creato tutte le animazioni, cioè ragazzi incredibile, cioè avete visto? Quindi va a creare ogni singola persona, no vabbè, cioè spettacolo, non so che dirvi, cioè veramente. Link in descrizione per registrarvi, sapete cosa dovete fare. L'attacco perché un domani possiamo creare giochi RPG con dei nemici, possiamo creare dei dungeon, cioè l'obiettivo è quello di creare sempre di più. Voglio ricordarvi anche che il game maker attualmente è la versione 0.5 se non sbaglio, quindi attualmente lo stanno migliorando sempre di più. Mi immagino tra qualche mese o tra un anno quello che è possibile fare. Ecco come si presenta il box edit. Non solo, possiamo vedere nella sezione notizie tutte le novità, si divide in modelli, animazioni, block per modificare appunto la base delle nostre terre. E abbiamo ragazzi dei template. Io che non sono bravo a creare dei modelli e voglio creare delle skin, degli equipment su dei personaggi, cosa faccio? Clicco su un avatar in particolare, salvo nella mia cartella principale, quindi gli metto il nome ad esempio Bozza1, in questo caso. Clicco su save, mi si apre il mio personaggio che ho appena selezionato e posso andare a disegnare, colorare, a fare tutto quello che voglio. Clicco sulla testa in questo caso, vado su modifica e ragazzi è incredibile. Ragazzi ci ho giocato un po' e vi permette di fare tutto, cioè io non pensavo avesse così tante funzionalità, ma non sto scherzando, è veramente tantissimo. Io ad esempio posso scegliere il tipo di prospettiva che voglio avere, quindi in questo caso ho la prospettiva normale. Posso andare a dividere la scena in due parti, a sinistro il modello 3D, a destra invece se siamo dei pixel artist abituati a disegnare in 2D, in questo modo vado a mettere ad esempio top e vedo dall'alto, vado ad esempio a mettere bottom e vedo dal basso, vado a mettere front e vedo ovviamente il lato posteriore, vado a mettere back e ho la mia faccia. Posso andare a scegliere il colore, tipo metto gli occhi in questo caso li ho messi fuori, perché sono nella modalità e sto applicando dei blocchi, vado nella modalità colora e guardate qui, posso andare a colorare gli occhi di rosso. Tra l'altro, cosa bellissima, possiamo creare delle palette, cioè ragazzi questo tool è pensato per chi vuole fare pixel art 3D, per chi vuole fare dei modelli, c'è di tutto. Ho provato a fare qualsiasi cosa e ragazzi c'è veramente di tutto. Infatti sono rimasto impressionato dal fatto che veramente si può creare di tutto, possiamo creare i layer, abbiamo la sezione dei materiali in RGB, possiamo anche scegliere se vedere tutti i blocchettini oppure no e non vederne completamente nessuno. Stiamo facendo un modello che è uguale a destra e a sinistra, ecco adesso tutte le modifiche che vado a fare in un lato, quindi ad esempio posso anche disegnare qui in automatico, guardate il cursore, lo seleziono dall'altra parte. Posso andare ad esempio in modalità, questo caso disegna, voglio creare ad esempio un cappello, quindi faccio così, quindi poi posso anche fare così, guardate con che facilità è possibile fare tutto questo, cioè ragazzi veramente. Bisogna ovviamente un po' smanettare con il tool, più lo utilizzate ma come con qualsiasi cosa e più sarete bravi a realizzare, però ecco qui è molto molto facile. Non mi piace la griglia, ci sono troppi blocchi, quindi troppi pixel, è semplicissimo, infatti mi basta semplicemente andare su questa icona qui e posso diminuire, ecco qui ho meno blocchi, quindi posso creare delle pixel art più minimal. Appena ho finito vado su salva, vado su home, faccio sì ed ecco qui, no vabbè fa troppo rischio, questo è il modello, io lo comprerei, cioè o no, è divertentissimo, immaginate andare in giro così con la testa piccolina, no adesso faccio pure gli occhi, no la devo fare. Ragazzi mi dispiace ma devo fargli anche gli occhi perché mi fa troppo ridere, è veramente una figata. No ve lo posso dire, cioè è fatto veramente bene ma gli occhi come li faccio? No così sembra un po' bruttino effettivamente. E se io adesso vado a ingrandire i pixel? Esatto, quindi posso fargli gli occhi, facciamoli neri ovviamente, un po' bruttino però voglio salvare, poi secondo me più trash è meglio. Ok, ho ingrandito la sua dimensione quindi è giusto, già va meglio perché ovviamente ho ingrandito la sua dimensione. No ragazzi possiamo veramente divertirci, possiamo realizzare modelli di qualsiasi genere, questo è il box edit e poi come state vedendo anche dallo sfondo ci sono persone che hanno fatto cose incredibili perché secondo me con più pratica è possibile fare ovviamente modelli di qualsiasi tipo. Come avete visto dallo shop troviamo qualsiasi cosa. Sono all'interno del Game Maker e voglio farvi subito vedere come funziona. Partiamo dal presupposto che abbiamo i nostri giochi ma possiamo partire da dei template, infatti se non sappiamo creare bene la nostra prima land possiamo prima vedere tutte le altre land messe a disposizione. Infatti possiamo creare il nostro videogioco partendo da un lago oppure da una foresta di notte oppure da un isona ci fa vedere anche bene quello che è possibile fare ma se vogliamo anche imparare le logiche per creare i nostri videogiochi abbiamo message quest, enemy waves, death quest, counter quest per creare la quest 1, 2 e 3. La 2 si attiva solo se ho finito la prima o se vogliamo fare delle ondate nemici. Beh ci sono tantissime cose io vado a inizionare il template lake vado a mettere ad esempio gioco di prova vado a fare su create e come si può vedere dal loading the sandbox maker è attualmente ancora la versione 0.5.2 quindi vediamo nei prossimi mesi quello che sarà possibile fare. Mi muovo all'interno del mondo semplicemente con WASD con Q con la C mi abbasso con la barra spazzatrice posso prendere quota ragazzi è una figata perché adesso vi faccio vedere quel puntatore che vedete qui sulla destra quello è il punto di spawn voglio giocare a questo attuale gioco clicco su tab ed eccomi qui all'interno del videogioco eccomi qui non ho ancora personalizzato il mio avatar mi sono perso tra il box edit e il game maker ma ovviamente ognuno poi può avere il proprio avatar come abbiamo visto prima. Guardate qui questo è un villager che si attiva un messaggio quando noi siamo vicino a lui come si fa a modificare questa cosa praticamente clicco sul villager come state vedendo a destra ho il suo nome le sue coordinate posso andare ad esempio a ruotarlo di 180 gradi quindi rivolto verso destra posso andare a vedere che lui ha un behavior farmer. Quindi in automatico lui cosa va a togliere che cosa dell'erba e infatti guardate posso andare a vedere che lui toglie catering tags plants infatti se clicco sulla pianta ha come tag plant quindi è molto semplice non è poi così tanto complesso certo bisogna fare pratica più lo utilizzate e più potrete fare cose incredibili. Quindi ha una vita di 90 io vado a mettere vita molto bassa ad esempio 20 e posso fare che quando sono vicino a lui guardate il detection range quindi posso aumentare o diminuirlo mi saluta dicendo ciao piccolo esploratore in questo modo mi piace. Andiamo a provare clicco in questo caso su tab vediamo un po mi avvicino ciao piccolo esploratore e si avvicina verso di me perché abbiamo fatto di prendere in esame il personaggio che si avvicina voglio creare un nemico vado nell'inventario in basso qui ovviamente se avessi cambiato sullo shop oggetti blocchi avatar modelli li avrei trovati direttamente qui ovviamente ne vado a prendere uno a caso vorrei prendere un ninja se non sbaglio dovrebbe esserci tra gli avatar il ninja eccolo qui infatti vado ad abbassare l'inventario vado a posizionare il mio ninja qui vado a prendere lo strumento modifica allora vediamo un po posso andare ok alle collisioni voglio lasciarlo così voglio aggiungere il behavior che lui può attaccare come se fosse un nemico guardate qui posso mettere behavior farmer healer basic platform quindi per far muovere una piattaforma posso creare un bottone che va cliccato posso mettere un'animazione mettiamo che lui è un predatore voglio mettere che lui è un predatore non so perché voglio farlo posso decidere walk speed chase speed attack damage attack speed quindi ogni quanto deve attaccare ma posso ovviamente modificare la logica di questo componente cliccando su edit logic e ragazzi guardate un po detection range mettiamolo lui mi vede molto prima tipo così e poi attack range solo da vicino ti può attaccare clicco su tab per provare il risultato finale e guardate lui mi ha visto adesso ecco che mi sta inseguendo ed ecco che lo sto attaccando oh dai che ce la faccio ok ce l'ho fatto e si avvia l'animazione ovviamente di death se ci sono ancora degli errori è normale ragazzi perché sono ancora la versione 0.5 non ci credo il lupo sta attaccando il cervo è perché ovviamente loro sono dei predatori e se andiamo a studiare il codice del lupo possiamo vedere appunto che lui è un predatore e ovviamente va a prendere qualsiasi oggetto se vado su edit logic posso andare a impostare ecco tags to attack quindi quale devi attaccare devi attaccare soltanto avatar e prey infatti se cliccate clicco su questo qui ragazzi questo qui a dovrebbe avere un tag da qualche parte con su scritto prey sicuramente bisogna andare a studiare tutta la logica del gioco tra l'altro ragazzi possiamo ovviamente modificare tutto l'ambiente circostante assolutamente sì possiamo andare a prendere i blocchi che rappresentano poi la base del tutto clicco ad esempio su il blocco e posso andare a costruire il blocco posso mettere esempio square anzi no diamond vado a creare una montagnetta posso fare veramente un botto di roba posso andare a modificare le regole del videogioco posso andare a modificare i parametri globali ragazzi ci sarebbe qui da parlare per 20 minuti o di fare una serie dedicata al game maker fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto con un commento se vi piacerebbe vedere magari più video questo ragazzi è il game maker in breve stra interessante e ci sono tutte le guide online direttamente sul sito the sandbox per studiare appunto e per capire come fare i vostri videogiochi questo ragazzi era the sandbox in descrizione trovate il link per registrarvi fatemi sapere cosa ne pensate del box edit e di game maker e vi consiglio di provare a creare qualche video il video gioco con il game maker perché approfittate della versione 0.5 certo non è il massimo attualmente ma vediamo tra qualche mese quello che diventerà ci vediamo come ogni giorno con un nuovo video e allora ci vediamo domani ciao